Proteggere i lavoratori e i cittadini e garantire la continuità dei servizi. Questo è il senso di un documento che la CGL ha inviato ieri al sindaco di Capodorlando Franco Ingrillì. La nota è stata trasmessa dal segretario generale di Messina Francesco Fucile e dal segretario provinciale Antonino Pizzino e riguarda la continuità dei servizi a Palazzo Europa. I sindacalisti hanno ricordato come i decreti del Governo nazionale abbiano già fatto il loro corso e se dovessero concretizzarsi i problemi della gestione dell'emergenza in questi giorni sarebbe già tardi correre ai ripari. La CGL, ricordando come nell'attuazione dei decreti il Comune abbia agito in modo frammentario e senza un apparente coordinamento, ha chiesto di individuare le attività funzionali nella gestione dell'emergenza e anche quelle indifferibili da rendere sul posto, poi di valutare che ai lavoratori non si può imporre la fruizione di permessi o ferie pregresse, per alcuni neppure maturati, e che i periodi di assenza dal servizio imposti dai provvedimenti di contenimento dell'emergenza, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Il sindacato è ritornato poi sulla dotazione di dispositivi di protezione individuale per tutto il personale, in modo che ai lavoratori vengano adeguatamente tutelati. Ad oggi, 24 marzo, hanno scritto pizzino e fucile, i dispositivi non sono stati forniti dall'amministrazione, ma i singoli dipendenti si sono arrangiati alla buona. Infine la CGL ha chiesto che si proceda alla disinfezione delle superfici e degli ambienti, sorpendendo i servizi esterni che non siano riconducibili ai caratteri di contingibilità ed urgenza.